Buonasera e bentornati in diretta. Diamo subito il via a questa nuova puntata di Primo Cittadino che oggi ospita il sindaco di Terre Roveresca, Antonio Sebastienelli. Buonasera sindaco, bentornato. Buonasera, buonasera a tutti quelli che ci guardano su Fano TV. Grazie a Simona, grazie a tutti insomma anche i ragazzi che sono qua dietro che ci permette, permettono anche i piccoli comuni di farsi non solo conoscere dare quelle informazioni che servono a tutti i cittadini. Esatto e anche ai telespettatori di poterci segnalare delle cose e lo potete fare con i numeri di telefono che vedete anche in sovrimpressione 0721 86 14 33 se volete parlare direttamente con il sindaco oppure 338 49 68 250. In quest'ultimo potete inviarci messaggi anche tramite Whatsapp e già qualcuno sindaco è arrivato. Ma direi di cominciare ormai con il consueto aggiornamento dei contagi. Qual è la situazione? La situazione ormai diciamo si è stabilizzata da qualche settimana. Mi sembra che abbiamo pochi casi 15 positivi, qualcuno in più in isolamento fiduciario. Ormai la situazione è stabile. Ecco, complice sicuramente il rispetto delle regole della maggior parte dei nostri cittadini e soprattutto anche dalla campagna vaccinale perché guardavo i dati anche oggi come numero di vaccinati a Tereo Vereschi insomma siamo molto in alto nella classifica quindi vuol dire che tanti cittadini hanno scelto e hanno avuto la voglia e la volontà di vaccinarsi perché ricordiamolo la vaccinazione è volontaria. Adesso presto iniziato anche gli over 40 e quindi ecco diciamo che la vaccinazione è una delle poche armi che abbiamo a disposizione perché ne abbiamo solo altre due. Il distanziamento, questa brutta parola che abbiamo che ormai è diventata di abitudine e poi l'uso della mascherina. E a proposito di vaccini voi avete messo a disposizione anche gli spazi dell'ex bocciodromo? Ci sono delle novità? Sì noi abbiamo messo a disposizione gli spazi dell'ex bocciodromo o anche altri spazi perché noi abbiamo tanti altri spazi tra cui il centro salute intitolato e dedicato al dottor Amodio che sappiamo recentemente scomparso e quindi sì abbiamo delle novità perché oggi abbiamo fatto un sopralluogo insieme al dottor Polverari che è un po' il coordinatore dei medici di medicina generale della nostra zona e quindi partiremo anche a Tereo Veresche con un app vaccinale. Abbiamo anche un'altra foto perché è partito il mercato agricolo è quello qua perché adesso piano piano anche grazie a questo decreto di apertura oggi abbiamo visto nel telegiornale sono ripartite anche le attività in palestra ed è bello poter tornare anche al mercato agricolo. Sì domani sarà la seconda giornata perché la prima è stata martedì scorso della settimana scorsa sì è iniziata questa collaborazione dove noi abbiamo come amministrazione fatto un protocollo d'intesa con l'associazione biologica il distretto biologico meglio ancora Terre Marchigiane con la presidentessa Sara Tomassini che ringrazio e quindi ecco loro hanno avuto l'incarico di organizzare questo mercato agricolo dove i produttori del biologico possono recarsi in questa nuova piazza che è la piazza della Fornacea a vendere i prodotti propri della propria azienda e quindi li spaziamo da quelli alimentari ma anche quelli cosmetici e perché ci sono aziende che fanno anche cosmetici di tipo biologico anche in una bella piazza poi sì una piazza nuova uno spazio che era nel passato usato come parcheggio come area della Fornacea e quindi che ha dato lavoro a tantissime persone e oggi è diventato una una spiazza che l'idea è quella di dare lavoro alle tante persone in questo caso le tante aziende agricole poi dopo questa seguiranno anche altre piazze perché già stiamo lavorando per replicarlo a barchi quindi è una cosa che si espande a macchia d'olio. Vado subito a leggerle il primo messaggio sindaco quando farà tagliare l'erba lungo la strada Montebello Orciano chi va a camminare quando si incontrano contemporaneamente due macchine deve entrare in mezzo all'erba alta. È iniziato stamattina proprio la domanda è proprio molto pertinente questo stamattina questa mattina è iniziato il taglio sulla strada comunale. Adesso vorrei fare rivedere ai nostri telespettatori un articolo di giornale perché purtroppo c'è stato un ennesimo atto vandalico tentano di bruciare il fondo sintetico del campetto appunto un nuovo atto vandalico a piaggio dopo i ripetuti appelli contro i teppisti e poteva andare anche peggio forse sì sicuramente poteva andare anche peggio perché il manto è sintetico quindi oltre a quella piccola bruciatura poteva anche espandersi su altre parti del campo. Fortunatamente per l'amministrazione per la comunità sfortunatamente probabilmente per gli artefici sono stati individuati quindi a breve succederanno insomma ci sarà un intervento anche insomma dell'amministrazione e quant'altro perché è un atto deplorevole. Esatto lo vediamo appunto in questo articolo del Corriere Adriatico. Sì perché questo è un bene pubblico a disposizione di tutti quindi fa veramente male vedere queste cose. Invece erano stati individuati i ragazzi che avevano utilizzato le bombolette spray ricordiamo no quello che è successo nella scuola ecco lì ci sono state sono stati individuati perché fortunatamente grazie anche all'impegno e alla perseveranza delle forze dell'ordine in questo caso delle dell'arma dei carabinieri quindi sono stati individuati e hanno sono intervenuti per il ripristino di come erano le pareti prima quindi si sono messi li abbiamo individuati fatti lavorare quindi hanno pulito a mano ognuno erano quattro quindi hanno pulito le scritte poi dopo il pittore pagato dalle rispettive famiglie ha provveduto nei giorni scorsi a ripristinare il colore che c'era prima quindi il grigio il bianco e quant'altro. Anche una forma di insegnamento. Soprattutto e non fuori di insegnamento non finirà lì perché poi gli faremo fare qualche altro lavoro hanno capito il loro sbaglio perché comunque sia un gesto che non va bene un gesto che si va condannato però qualche volta ecco ci lasciamo andare su facebook a tutta una serie di commenti e invece forse meglio ecco fare un gesto educativo quello che i ragazzi hanno fatto in questo modo. I leoni da tastiera non mancheranno mai. Perché non togli i dossi a San Giorgio Piagge? Allora lì sono state fatte delle rampe non sono dei dossi propriamente sicuramente a tante persone potrà dare fastidio creare sicuramente le ambulanze o i mezzi pesanti però è un modo è un deterrente. Molte volte non funziona tante volte perché ancora ci sono parecchie persone che nonostante tutto si azzardano ad andare veloci nei nostri centri abitati però nei prossimi giorni abbiamo deciso di comune in accordo con il comandante della polizia municipale di comunque sia aumentare quello che è il pattugliamento e la presenza e quindi speriamo che questo sia da deterrente e anche in altri poi poi ne parleremo sicuramente dopo anche in altre parti del territorio non solo nei centri abitati ma anche fuori. Bene. Le chiedono la grotta ipogeo non era per caso inagibile anche qui sono continuate. La grotta ipogeo non è mai stata inagibile perché diciamo uno degli ultimi documenti che noi abbiamo fatto dall'ingegnere che ha constatato con i suoi rilievi l'agibilità o meno nel 2017 quindi la grotta è fruibile chiaramente ha bisogno sempre costantemente di un'attenzione eccetera perché comunque sia è un luogo particolare ma la grotta è fruibile da tutti quindi dai da zero come nei giochi da tavola dai zero a 99 anni la grotta ipogeo è fruibile perché sai c'è stata anche un po di polemica sul fatto dei bambini e la grotta ipogeo non so forse l'avrei letto sul giornale che non è un luogo per bambini invece è anche un luogo per bambini molto educativo molto istruttivo eccetera. Continuate in queste settimane anche la polemica per la gestione alla Proloco si parla di un passaggio per vie legali insomma che cosa ne pensa ormai arriva tutto questo punto? Staremo a vedere secondo me ormai è ora di far basta con la polemica eccetera tante volte la Proloco ha offerto una propria disponibilità a poter collaborare insieme alla società che precedentemente curava la gestione dell'ipogeo e soprattutto l'attenzione che quello è un bene pubblico bene di proprietà comunale quindi di tutta la comunità di terra roveresche oggi e di conseguenza va fruita in maniera tale che sia accessibile a tutti con i criteri che si addicono ai beni pubblici e chiaramente i criteri che l'amministrazione ha utilizzato anche per l'affidamento alla Proloco che poi è l'organismo che è deputato a quello che è la gestione e la tutela dei beni monumentali sono gli stessi che sono stati usati precedentemente con Proarto con tutte le altre associazioni che ci sono a terra roveresche. Sindaco abbiamo tanti messaggi quindi andiamo avanti. A proposito di rifiuti le dicono ho appreso per via traverse che sabato 15 maggio è stato messo nel contenitore della carta un nuovo calendario con delle variazioni sulla raccolta differenziata. Io ci scrive il telespettatore che non avevo da consegnare la carta come faccio a sapere i cambiamenti? Era così difficile inserire questo nuovo calendario nella buca della posta? Allora viene utilizzato quel tipo di sistema perché poi è la stessa società, gli stessi soggetti che gestiscono una raccolta differenziata quindi quando passano e raccolgono la carta come c'era sulle informativa che noi abbiamo comunque sia fatto circolare insieme ai canali social sul sito eccetera e quindi hanno messo il calendario. Se uno sfortunatamente non è riuscito perché non aveva la carta da conferire può recarsi in comune presso l'ecocentro a ritirare la nuova copia del calendario che rispetto a quello precedente vede solo un'intensificazione di alcuni passaggi per esempio l'organico è passato tre volte a settimana e poi altri servizi aggiuntivi rispetto a prima. Poi comunque sia se vuole può andare o sul sito del comune quindi trova il calendario oppure si scarica la Junker App, l'app che noi abbiamo e quella in automatico a seconda del circuito se è giallo o verde gli manda il messaggino dici ricordati di mettere fuori la carta eccetera quindi è molto semplice. Quando arriva la fibra a San Giorgio? Allora i lavori dovrebbero essere quest'anno perché questo è l'anno in cui verranno cablati gli altri tre municipi rimasti quindi Barchi, Piaggi e San Giorgio. Invece la strada provinciale che va da Virginieto al Bivio per Sant'Ippolito quando verrà sistemata però in questo caso se è provinciale. La domanda se è provinciale io come mi sembra che ne abbiamo parlato anche la volta scorsa ho sollecitato e ho portato di nuovo all'attenzione questo problema al Presidente della provincia e al responsabile di quello che è tutto il comparto strada che è l'ingegnere Primavera e quindi speriamo che quest'anno almeno un piccolo intervento per sistemare quell'incrocio venga messo in programma. Che cosa è emerso le chiedono dalla conferenza di servizi in provincia del 12 maggio in merito al digestore anaerobico di Barchi? Emerso l'amministrazione come è successo poi il giorno precedente alla conferenza dei servizi durante il Consiglio Comunale ha messo nero su bianco quella che è la nostra posizione chiaramente una posizione che ha ragion veduta analizzando il progetto sulla base di dati scientifici eccetera ci sarà sicuramente un'altra conferenza o forse più di una dove poi tutti gli altri enti perché già il Comune per quello che riguarda il Comune ha già formalizzato la propria posizione con gli atti con una delibera di consiglio con due pareri del responsabile dell'ufficio tecnico e urbanistico del Comune di Terra Roveresche e in più con un altro documento del Sindaco che sono le prescrizioni in ambito di autorizzazione integrata ambientale quindi questo è il quadro. Da parte degli altri enti ho visto che probabilmente c'è stata ancora un po' di superficialità in quella che è stata l'analisi del progetto perché in 14 giorni quella mole dei documenti noi l'abbiamo sviscerata perché abbiamo messo sotto non solo il Comune ma anche la cooperativa articolo 32 ringrazio il Presidente Sadori e tutti i collaboratori Marco Bartoli e Mancinelli che ci ha aiutati in questo percorso per capire un po' quelli che sono le lacune di questo progetto perché chiaramente si analizza il progetto non è che uno può analizzare i pensieri o quello che uno vorrebbe fare uno analizza i documenti certo l'amministrazione fa questo poi dopo nel bar si fa altro Mi dicono se è possibile mettere un dosso in via Bacchiocchi e poi volevo chiedere al Sindaco se può interessarsi per fare delle asfaltature lungo la strada orcianense magari coinvolgendo anche il Sindaco di San Costanzo e di Fano Allora quello sicuramente dicevo noi stiamo sempre in contatto con la provincia faremo un'azione di moral suasion con gli altri sindaci con quello di San Costanzo con cui abbiamo iniziato questa collaborazione per quello che riguarda la Polizia Municipale poi anche col Sindaco di Fano E quando verrà portata una scala più alta al cimitero di Montebello? Ah la possiamo portare anche domani questa ringrazio chi ha fatto la segnalazione così lo sappiamo Ah non eravate al corrente? No sarebbe se la parte nuova o la parte vecchia così siamo anche più precisi Adesso andiamo a leggere un altro messaggio che ci è arrivato oggi pomeriggio questa volta un po' più piccante Allora Schieppe risulta essere in queste condizioni e qui fanno l'elenco La luce Esatto Illuminazione così stringiamo un attimo che non è stata terminata ormai dallo scorso giugno Messa in sicurezza di via Schieppe Angelica con mezzi atti a ridurre la velocità l'asfalto dissestato quindi con delle buche pericolose sicurezza sanitaria il mattatoio è nelle stesse condizioni di sempre e quindi nessuno alza un dito e si preoccupa le chiedono anche di ricordarsi delle promesse fatte quindi di trasformare delle periferie in giardini Noi per quello che possiamo noi lavoriamo sulle periferie come nei centri dappertutto Su Schieppe so benissimo la problematica la luce mi scuso siamo in ritardo perché il territorio è ampissimo lì abbiamo già installato il contatore qui dobbiamo fare solo lo scavo per portare la luce per quei due pali dell'illuminazione pubblica che conosciamo Per quanto riguarda l'asfalto anche lì siamo in una provinciale quindi non possiamo intervenire noi come comune ma sul manto deve intervenire la provincia Noi abbiamo anche quest'anno in anticipo giustamente perché veniamo incontro alle esigenze dei cittadini abbiamo tagliato l'erba e i bori delle strade cosa che non dovremmo fare noi ma l'abbiamo fatta perché abbiamo a cuore quello che è la necessità delle persone per quello che riguarda si era parlato tempo fa anche con il signor De Rosa che conosco bene la famiglia De Rosa sulla possibilità di diminuire la velocità su quel tratto che è l'uscita della superstrada Fano Grosseto lì adesso intensificheremo la presenza di pattuglie e di vigili e anche poi dopo parlerò col maresciallo per i carabinieri perché fare dossi eccetera non possiamo farli e quindi dovremo per forza usare altri meccanismi Per quanto riguarda il mattatoio noi facciamo la nostra parte però di nuovo io voglio ricordare a tutti che quello è un mattatoio la cui proprietà è del comune di Colli al Metauro e del comune di Fano si trova nel nostro territorio quindi noi per quello che sia possibile agevoliamo la cooperativa ha avuto comunque sia un contributo per fare dei lavori quindi noi per quello che è la nostra parte agevoliamo tempo fa quando ancora c'era il sindaco Aguzio che aveva fatto la proposta di poter entrare in parte come proprietario del mattatoio ma quella volta ad oggi noi siamo degli spettatori noi abbiamo il mattatoio che è nel comune di Terroveresche però non è il nostro e che puzza scrivono qua quindi un odore non molto gradevole alcune volte ci sono questi non sempre ma in alcuni frangenti hanno questo problema buonasera volevo sapere perché a Barchi stanno raccogliendo le firme per il biodigestore vuol dire che allora si fa? chiedono la storia la conosciamo quella fa parte il comitato con il presidente Biagioli fa questa petizione quindi ha raccolto le firme perché chiaramente è uno strumento che ha il comitato ma questo non vuol dire che si fa se non raccoglie le firme vuol dire che si fa adesso c'è un procedimento amministrativo in atto dove il regista è la provincia di Pesaro Urbino e quindi poi a seguito di tutta una serie di pareri che verranno raccolti poi dopo la provincia si esprimerà in un modo o nell'altro invece Alex ci scrive senza digestore l'umido dove lo smaltiamo ovunque ma non nel mio comune questo commento ci ha inviato adesso passiamo invece questo è tipico alla piscina passiamo alla piscina perché proseguono i lavori proseguono i lavori stanno andando avanti sono stati gettati i pali questa cosa qui adesso partirà la realizzazione della platea e poi tutto lo scheletro di quello che sarà il nuovo spogliatoio della piscina e il nuovo ingresso poi i lavori verranno sospesi per permettere di poter furire della piscina all'aperto per i mesi estivi poi verso metà settembre più o meno quando poi dopo di solito la piscina veniva chiusa ripartiranno i lavori ripartiranno i lavori che vedranno la copertura della piscina e quindi poi di conseguenza verrà terminata entro l'anno e quindi potrà essere fruibile anche d'inverno quindi dal prossimo anno quindi dal prossimo anno sarà fruibile anche durante l'inverno e l'importo complessivo dei lavori? L'importo complessivo sono 819 mila euro una cifra importante quindi è un investimento di cui 500 mila euro a fondo perduto che abbiamo preso col bando sport e periferie e una parte 319 mila euro li vengono presi con un mutuo a tasso zero con l'istituto del credito sportivo a 15 anni Buonasera la POTES 118 che doveva già essere attiva a località la fornace verrà mai aperta? Quali sono gli ultimi avvenimenti? La POTES verrà aperta il problema è che sappiamo tutti mancano i o chi non lo sa lo mettiamo a conoscenza questa sera mancano gli infermieri perché questa è una POTES H24 dove il personale infermieristico deve essere personale dipendente dell'ASUR e sappiamo adesso complice il covid complice il fatto che mancavano già da prima gli infermieri non ci sono quindi quando saranno disponibili gli infermieri verrà attivata anche la POTES perché di fatto il soggetto che dovrà mettere l'ambulanza è già stato individuato mancano gli infermieri che hanno questo percorso abbiamo in linea qualcuno che vuole parlare con lei sindaco buonasera buonasera chiamo da San Lorenzo in campo alcuni anni fa sono venuto a vedere come spettatore la partenza a Barchi della Colle Marathon e ho conosciuto per la prima volta il castello il castello di Barchi che secondo me è una grande opera d'arte che maggiormente valorizzano veramente mi è piaciuto molto anche stando lì alla partenza ho potuto entrare in chiesa e vedere per la prima volta la chiesa di parrocchiale quella di San Zubaldo è veramente uno scrigno d'arte lo stesso organo del Callido che c'è e ho partecipato successivamente come spettatore a uno dei concerti fatti in occasione della rassegna organistica fanese quindi al sindaco vorrei dire diamogli forte valorizziamo veramente un centro che secondo me è poco valorizzato è anche poco conosciuto quindi un incoraggiamento perché le cose belle vanno valorizzate le belle cose si possono anche continuare con meno vigore però Barchi quel castello è veramente meraviglioso grazie se potete fare qualcosa di più grazie buona serata grazie beh insomma una bella telefonata è qualcosa di unico il castello disegnato da Filippo Terzi questo grandissimo architetto che ha disegnato anche la piazza che noi abbiamo ricostruito chiaramente non è uguale a quella di Filippo Terzi però abbiamo cercato di dare una dignità anche alla piazza in fondo alla Porta Nuova quest'anno adesso con il prossimo con il prossimo consiglio comunale dove andremo a poi ne possiamo parlare anche dopo di investire risorse insomma importanti ce ne sono 80.000 euro che vanno proprio a Barchi anzi sarebbero 100 perché 80 vanno per la sistemazione della Porta Nuova di una parte del muro e una parte di queste risorse circa 20-25.000 euro serviranno per terminare il restauro di quelli che sono gli altari all'interno della chiesa collegiata di Sant'Ubaldo che è del comune non è della parrocchia quella è una chiesa che è di proprietà comunale come tutto il palazzo stiamo investendo stiamo lavorando per renderla visitabile grazie al coinvolgimento della Proloco come abbiamo fatto per l'ipogeo di Piaggi e con tutti gli altri monumenti e quindi questo sì stiamo cercando di investire parecchio questo è vero ancora non siamo arrivati all'ottimo ma ci stiamo insomma piano piano crescendo piano piano serve tempo perché dalla sera alla mattina se le cose non sono mai state fatte serve molto tempo e poi parleremo anche faremo vedere una carrellata di lavori che sono stati fatti parleremo dei progetti però tra poco dobbiamo andare in pubblicità quindi le vado a leggere gli ultimi messaggi la banca di San Giorgio sono parecchi giorni che non funziona può fare qualcosa la banca? adesso mi informerò perché forse non so se è complice il passaggio da Ubi Banca intesa San Paolo e quindi questo potrebbe aver provocato tutta una serie di rallentamenti e poi le chiedono anche quale croce rossa ha preso l'appalto della POTES se sa questo dettaglio il nome non lo so però il direttore dell'ASUR il dottor Magnoni insieme ai suoi collaboratori mi hanno detto che è stato individuato il referente quindi non so il nome però so che è stato individuato mancano solo gli infermieri bene torneremo allora tra qualche istante perché abbiamo ancora tante cose di cui parlare tante foto da farvi vedere a tra poco bene siamo ancora in diretta con Antonio Sebastianelli dunque sindaco stavo provando a vedere alcuni fogli che ci ha inviato una telespettatrice però purtroppo dal PC non riesco a capire bene comunque riguarda l'ipogeo di piagge forse perché ci sono state delle non so per quanto riguarda la non agibilità magari cerchiamo di capire poi a fine puntata venirebbe capire bene non so adesso chi l'ha mandato si sarà forse qualcuno che fa parte dell'associazione ProArt che probabilmente ha avuto il mondo non so se sarà la signora da Luisi eccetera riguardo l'agibilità ma noi abbiamo i nostri documenti in comune perché fanno fede quelli chiaramente quelli con la firma dei professionisti e quindi possiamo dire che è agibile non ci sono problemi al quale è stata commissionata chiaramente tutte le nari di staticità e quant'altro ho capito va bene dovremmo avere anche una telefonata pronta per lei sentiamo che è in linea buonasera ci sente buonasera si per telefono si la televisione è abbassata perfetto il sindaco è qua che l'ascolta buonasera francesco buonasera sindaco la voce di francesco è inconfondibile la conosco bene io ti faccio la solita ed eterna domanda quella della fornace eh sì io sono nato vissuto fasciuto lì e ci vorrò qui a quando l'ultimazione dei lavori del marciapiede mi riferisco alla renghiera e al tratto del monumento prima domanda da qui a luglio è vergognosa la situazione delle macerie cosa si può fare in merito dopo il sequestro se puoi dacci delle risposte sicure io grazie grazie Francesco allora sulla prima ti posso rispondere perché chiaramente è l'amministrazione che fa eccetera quindi io penso che per la fine di agosto perché prendiamoci un mese in più avremo fatto tempo permettendo quindi sia terminato l'ultimo tratto di marciapiede che collega il monumento con il nuovo marciapiede che va giù alla piazza fornace e la recinzione che manca per quanto riguarda le macerie so che ancora perché dieci giorni fa ho sentito il proprietario ancora sta aspettando dal tribunale che venga dissequestrata l'area per andare avanti con la frantumazione delle macerie poi vediamo da qui a un mese un mese e mezzo sperando che chiaramente ognuno faccia il proprio lavoro poi se le cose non vanno come devono andare come alcune volte ho paventato bisogna che noi facciamo la fase 2 quindi il comune l'ente pubblico quindi con soldi pubblici si dovrà sostituire in prima battuta al privato questo è allora andiamo avanti con qualche messaggio buonasera sindaco l'orologio della torre campanaria di Orciano di Orciano verrà mai rimesso in funzione? si verrà messo in funzione perché abbiamo già il preventivo quindi da qui a 15 giorni daremo l'incarico e quindi poi quello ritornerà a suonare mi dicono dalla regia che c'è un'altra telefonata per lei sentiamo chi c'è in linea buonasera ci sente? buonasera pronto? si ci siamo buonasera sono l'architetto Polverari presidente dell'associazione culturale ProArt buonasera bene buonasera così possiamo anche chiarire questa situazione allora io vorrei sapere dal sindaco da momento che lui ci ha mandato un'informativa in merito alla grotta ipogeo tra l'altro chiedendo anche il rispetto della privacy però la privacy sono loro praticamente è proprio il sindaco che non l'ha rispettata comunque voglio leggere queste questi paragrafi che ha scritto relativamente ai lavori della grotta allora in tutta la superficie accessibile del sottosuolo necessitano controlli più approfonditi e rilievi statici da parte di tecnici e ingegneri al fine di rilevare situazioni pregiudizievoli alla sicurezza e alla stabilità strutturale del sito dannose alterazioni del microclima pericolose infiltrazioni del manto di copertura soprastante e dalla vicina sede stradale distacchi di frammenti tuffaci dal soffitto e dalle pareti della grotta che a seguito dei controlli dei rilievi effettuati dovrà essere elaborato a cura dei tecnici proposti un progetto di intervento con un piano dettagliato che definisca i tempi esecutivi delle azioni ritenute necessarie che giustifichi la sostenibilità dell'investimento dal punto di vista economico finanziario giro pagina un attimo allora per far capire però bene anche a casa lei ci sta dicendo che non sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso praticamente la gestione della grotta per questi motivi ciò premesso l'amministrazione comunale ah un attimo che sarà dato corso alle procedure di bonifica urbanistica delle aree circostanti all'ingresso della grotta nelle quali risultano essere presenti decenni in decorose situazioni di degrado urbano e di abusivismo e delizio tramite emanazione di ordinanze di abbattimento rimozione sgombero di superfettazioni manufatti costruzioni fattiscenti e cumulo di macerie ciò premesso l'amministrazione comunale di terra roveresche facendosi interprete delle esigenze derivanti da bisogna che le chiedo se vuole fare una domanda al sindaco siamo qua e deve rispondere perché se stiamo leggendo i documenti non capiamo l'adottare gli opportuni provvedimenti dispone che fino a nuova comunicazione a causa delle emergenze e per i motivi sopraindicati non sostitutto è una lettera che noi abbiamo fatto tempo fa l'abbiamo scritta ma per carità quindi lei la conosce ma io la conosco l'abbiamo scritta noi quindi la conosco se me la leggi si voglia persona fatta eccezione per il personale tecnico incaricato operatori professionali autorizzati ritiene pertanto che stante l'attuale situazione architetto gentilmente se è una lettera che ha scritto l'amministrazione comunale l'abbiamo scritta noi la conosciamo non si potrà procedere ascolti cortesemente se è una lettera che comunque è stata fatta dal comune la conosce il sindaco per cui se lei può fare una domanda se vuole avere informazioni per quale motivo noi siamo stati praticamente cioè c'è stata tolta la gestione non è che ti è stata tolta vedi tu fai uno sbaglio la gestione scadeva il 31-12 posso parlare io le do del lei ok allora dottore in architettura io le rispondo per questi motivi per questi motivi ci toglie la gestione per questi motivi e per quelli del covid allora dove sono stati fatti i lavori quali lavori ha fatto allora quali lavori ha fatto allora io posso capire che la pro art allora se hai fatto una domanda se ti fermi posso rispondere se no ecco appunto noi abbiamo fatto una scelta che parte da molto più indietro intanto per quello che riguarda le analisi statiche noi abbiamo chiamato un ingegnere quindi l'ingegnere ci ha detto che lì va bene ma quando è stata ora lei cosa vuole ma ci sono gli atti ci sono tutti sicuramente voi sarete un po' risentiti dal fatto che l'amministrazione facendo un progetto più ampio allora qui si parla voglio che tutti sappiano qui si parla di sicurezza secondo parliamo uno alla volta se no a caso non capisco se vuoi fare polemica noi abbiamo affidato la gestione alla prologue insieme a tante altre e la gestione sicuramente è molto superiore a quella che c'era lavoro che la planica dovevate fare non l'avete mai fatto non alziamo i toni però si alza i toni io capisco lo sfogo non alziamo i toni i toni li avete alzati voi no li avete alzati voi cacciandoci senza motivo non riconoscendo la nostra associazione chi è che non riconosce abbiamo dato tanti contributi e sostegno anche l'altra volta quando ho parlato sempre a Fano TV del museo cielo aperto non ha mai parlato della ProArt chi? certo noi abbiamo parlato di tutti e di qualsiasi persona e basta di tutte le associazioni eccetera allora fortunatamente ci sono le famose dirette che lei fa se ci sono le dirette difendo nelle dirette c'è tutto comunque sia noi siamo stati praticamente lasciati fuori gioco per questo motivo qui è chiaro ed evidente il motivo perché dovete fare lavori di messa in sicurezza per la sicurezza della grotta e per l'incolumità delle persone noi abbiamo fatto quello che serviva in base a quello che ci hanno detto gli ingegneri iscritti all'albo cosa che tu sei un dottore in architettura non sei neanche iscritto all'albo come architetto quindi terminiamo questa questione ma cosa è che qualcosa però quando parliamo di incolumità pubblica dobbiamo fare attenzione è la verità lo sappiamo tutti che è la verità io sono architetto a contatto di laurea innanzitutto la laurea ma essere architetto significa essere iscritti all'ordine fa parte del discorso perché noi ci affidiamo a professionisti lei pensi per lei pensi non alziamo i toni però non mi piace questa conversazione infatti è proprio disdicevole spero che poi possiate chiarire anche chiarire noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo noi abbiamo fatto il nostro ragionamento insieme ad altre proloc abbiamo voluto cambiare anche perché questa gestione terminava il 31-12 dell'anno scorso del 2020 e quindi poi con gli stessi criteri con cui è stata affidata precedentemente da questa amministrazione ma anche dall'ultima amministrazione di Piagge noi abbiamo voluto come amministrazione cambiare per dare un taglio diverso perché quando si fa promozione si fa promozione a 360 gradi di tutto il territorio ho avuto modo anche di dire l'ipogeo alla fine diventa una perla che poi permette di scoprire anche tanto altro quindi non solo l'ipogeo stesso ma anche quello che ci appiagge è cosa che probabilmente nel passato non era così evidente e quindi adesso abbiamo dato un taglio differente proprio per riallacciarmi a quello che diceva il signore prima che ci ha chiamato di San Lorenzo per cercare di valorizzare il più possibile tutto quello che è il nostro territorio e le vostre bellezze esatto però quando si parla di incolumità pubblica dobbiamo cercare se avete documenti insomma che accertano la sicurezza di non dare un messaggio sbagliato ma noi infatti ci affidiamo a dei tecnici geologi ingegneri e quant'altro quindi noi siamo tranquilli Sindaco direi un attimino di andare avanti con qualche bella notizia e anche delle belle foto perché prima di parlare dei progetti perché è stato provato anche il bilancio andiamo a vedere facciamo una carrellata di tutti i lavori che sono stati fatti ultimamente allora questa è una delle classiche foto qui siamo in una delle nostre strade di camp esterne diciamo di campagna del nostro bel territorio che noi cerchiamo di tenere il più a puntino possibile perché chiaramente delle infrastrutture comode e funzionali aiutano anche il turismo andiamo avanti questo è il monumento la chiesetta dei caduti di Rupoli che stiamo ristrutturando un piccolo gioiellino anche questo questo è un tratto di pavimentazione a Dorciano che richiedeva una sistemazione di quella che è la pavimentazione in Selci poi dopo a parte ci sarà il progetto che riguarderà tutto il centro storico ma quella è un altro discorso questi sono i bagni dell'istituto comprensivo Gio Pomodoro Monte Palazzino che stiamo terminando questa è una lottizzazione a San Giorgio che siamo riusciti a terminare perché abbiamo la ditta che l'aveva iniziata è fallita però siamo riusciti a discutere la polizza fidei usori e quindi facciamo noi per conto del privato le opere di urbanizzazione questa è una pavimentazione a Virginieto Alto questo è San Giorgio marciapiedi fatti adesso recentemente nuovi questa è una stacionata a barchi per dare sicurezza a un piccolo parco queste rupoli il centro storico proprio il castello quindi interventi per meno in tutti gli ex comuni noi cerchiamo di toccare tutte le parti insomma dove serve noi cerchiamo di esserci questo? questo è l'ingresso del castello dove c'era questo piccolo lavatoio questo è sempre il monumento dei caduti di rupoli il tetto questo è sempre l'aiuola prima il piccolo parco a barchi dovremmo esserci regia giusto? senso di sì infatti le chiedo buonasera vorrei sapere quando verrà messa in sicurezza la casa in via rupoli sono molti anni che c'è un'armatura ed è tutto sì quella è una cosa che abbiamo ereditato dal passato è un po' come il discorso che diceva prima il dottor Polverari sulle demolizioni esterne abbiamo ereditato da 30 anni non lo so tutta una serie di problematiche che adesso chiaramente cerchiamo di mettere a posto compresa anche la casa rupoli che abbiamo acquisito la proprietà come comune quindi adesso faremo un bando e la metteremo poi diciamo in concessione al prezzo simbolico di un euro perché può essere utilizzata visto che adesso c'è il super bonus sisma bonus eccetera ristrutturata e quindi utilizzata anche come albergo diffuso sono un ragazzo di schieppe residente in questo comune da poco mi complimento con il sindaco per i lavori eseguiti anche nella piccola cappella a Montebello che è stata ripristinata sì questa diciamo che il 90% è frutto dell'intervento di un privato che per esaudire il desiderio del papà recentemente scomparso che gli ha detto devi risistemare ristrutturare quella cappellina quindi noi abbiamo aiutato per alcune alcune parti di lavori adesso lui ha sistemato la cappellina acquisterà il santo che c'era prima e poi noi termineremo la parte esterna una bella cosa via Kennedy le chiedono quando verrà asfaltata via Kennedy dove? perché ce ne abbiamo più di una c'è Barchi e Orciano Barchi via Kennedy Barchi siamo sulla provinciale anche lì e quindi se mi parlate di illuminazione pubblica è compito nostro su quella noi stiamo sempre anche lì sollecitando la provincia per poter intervenire sulla frana del campo sportivo e poi anche sull'asfaltatura della strada provinciale un messaggio un po' lungo allora lo leggiamo insieme buonasera sindaco venendo giù da Montebello si arriva nella zona industriale di Schieppe nell'incrocio proseguendo dritto verso la discoteca Tris si incontra una grossa curva a sinistra poco dopo sulla destra si trova una scarpata pericolosa in cui sono finite alcune auto fermate per fortuna da qualche albero il salto completo è alto e la presenza anche di un guardrail potrebbe salvare qualche vita la strada è provinciale però se ci fosse la richiesta da parte del comune noi faremo anche quella perché lì fa parte anche di un progetto più ampio come abbiamo parlato sia col presidente che col dirigente della provincia delle strade l'ingegnere Primavera di costruire qualcosa di diverso però la prima cosa la faremo anche noi insomma andremo a sollecitare l'intervento grazie della segnalazione per mettere un guardrail sì invece Ivan le chiede la fibra ottica a Cerbara Ivan Panfini ti saluto ogni tanto ci chiama quest'anno quest'anno tutti i suoi cittadini che puntualmente le fanno segnalazioni ci aiuta tante volte con i lavori al cimitero a Piaggio si fa parte insieme a Pascucci che è un altro un altro signore che si preoccupano sempre di tenerlo pulito e in ordine e quindi quest'anno ci sarà anche l'anno della fibra ottica io spero che per ottobre sia attivabile sempre problemi burocratici allungamenti e covid permettendo perché ancora un po' il covid si farà sentire e alla polizia locale invece avete consegnato un nuovo mezzo sì abbiamo acquistato una macchina serviva perché c'erano due macchine una specialmente era molto vecchia quindi abbiamo fatto una nuova macchina nuova auto una nuova jeep quindi presto poi il primo di giugno inizierà anche un nuovo operatore che è stato assunto e quindi ecco si va in questa direzione insomma cerchiamo di aumentare poi la presenza adesso facendo anche una serie di altri interventi per poter insomma migliorare e intensificare la presenza degli operatori sulle strade perché poi la presenza è quella che fa più da deterrente possibile avete anche approvato il rendiconto di gestione intanto le chiedo quant'è l'avanzo di amministrazione l'avanzo di amministrazione è un avanzo importante perché abbiamo 1.400.000 euro di avanzo libero più altri 97.000 euro destinati agli investimenti più abbiamo 300.000 euro destinati per il covid per quello che è tutta la parte spese legate quindi è un discreto gruzzoletto che poi nel prossimo consiglio andremo circa penso un milione di euro a utilizzare per tutta una serie di lavori che faremo sparsi su tutto il territorio tra cui ce ne sarà uno che sarà appunto molto d'impatto perché andremo a fare penso lungo la provinciale tra Piaggio e San Giorgio circa un chilometro e mezzo di marciapiedi quindi con tutta l'illuminazione pubblica quindi diventa un intervento di sicuro impatto più tanti altri piccoli interventi che dicevo prima sparsi tipo strutture sportive asfalti gli asfalti quello ormai è chiaro perché comunque sia fa parte e il biglietto da visita quando un turista arriva poi andremo a spendere circa 100 mila euro di manutenzione sugli impianti sportivi soprattutto campi da tennis i monumenti li riqualificherete? i monumenti i monumenti beh chiesa di barchi e poi anche altri monumenti in giro andremo a mettere insomma ad aumentare maggiormente il decoro allora Ivan che scrive grazie Antonio sei unico e poi auto nuova ma anche un vigile in più per far cassa anche con le multe no allora adesso io rispondo perché noi tutto si può dire ma che il comune terrovesca faccia cassa perché noi dal 2000 penso anche prima dal 2017 in avanti all'incirca noi incassiamo 2000 euro di multe su un comune di 5500 abitanti quindi sfido io ecco quindi la risposta è questa non è per far cassa ma la presenza dei vigili fa da deterrente perché non è possibile che ancora all'interno perché voi sapete probabilmente tutti i nostri centri sono stati costruiti a ridosso di quella che è la strada provinciale quindi la strada provinciale passa nei centri abitati anche dove c'è i 50 vanno molto molto forti anche se il fondo è disconnesso perché la provincia in alcuni tratti deve intervenire per rifare il manto vanno un po' allegretti come diciamo noi e quindi il fatto di avere i vigili presenti non significa non farla molto però la presenza del vigile e dei vigili come delle forze dell'ordine un po' di calma incute a tutti e anche per i controlli insomma ci sono i controlli devono esserci incidenti per carità dunque sono previsti anche dei nuovi parcheggi? dei nuovi parcheggi sì perché noi abbiamo nei nostri bilanci proprio delle somme che sono state incassate e destinate per realizzare nuove spazi nuove aree attrezzate a parcheggi e quindi ne sarà prevista una a Dorciano verso Monte Palazzino eccola invece per i centristivi ci sono delle conferme i centristivi abbiamo già provato tutto a breve uscirà fuori il bando e quindi sarà la stessa formula dell'anno scorso con più o meno le stesse non più o meno le stesse cifre dell'anno scorso rimane tutto confermato e quindi avremo appena finita la scuola le solite due settimane prima di luglio poi abbiamo il mese di luglio che fa da Leone poi abbiamo lo stop in corrispondenza del Ferragosto e le due settimane prima dell'inizio della scuola quindi aspettando i centristivi aspettando l'inizio della scuola dai giovani dai bambini agli anziani e poi oggi abbiamo pubblicato il bando classico l'avviso per le vacanze della terza età per i nostri nonni tre settimane quest'anno non più due magari se sono poi vaccinati vanno via anche ma questo è sicuro anche l'anno scorso nonostante senza vaccino sono voluti andare al mare comunque perché è un modo anche per stare insieme per insomma socializzare insomma e quant'altro e quindi tre settimane per Barchi e per il municipio di Barchi Orciano e poi il secondo turno tre settimane per San Giorgio e per Piagli quindi invito a tutti i nostri non ad andarsi a iscrivere come sempre una precisazione sul messaggio del vigile perché ci dice no proprio il concetto è esattamente il contrario quindi servirebbe motorini senza marmitte gente al cellulare limiti ignorati quindi forse a questo punto di farne un po' di più non vogliamo essere cattivi però la presenza molte volte aiuta anche qualche multa non fa sì beh quella è chiaro qualcuna se viene fatta penso che proprio da deterrente è possibile sostituire il tappeto sintetico del campetto sportivo di San Bartolo dove molti bimbi giocano essendo l'unico spazio disponibile nella frazione ci possiamo ragionare l'unica cosa che dispiace è quello è un campetto anche abbastanza nuovo poi poco usato però adesso sì effettivamente da quello che so io quel sintetico lì ha avuto sempre un po' qualche piccolo problema carissimo sindaco nei progetti per terre roveresche potrebbe inserire per Orciano un parco giochi per cani forse perché no un spazio di sgambatoio non lo conosco però lo sgambatoio probabilmente è una cosa che comincia a essere necessaria sempre più sfruttata poi in un'area dedicata chiudiamo con questo messaggio rinnovo la richiesta di avere Antonio a Colli al Metauro intanto ci fa piacere perché ci seguono anche dagli altri comuni quando abbiamo sindaci come in questo caso lei di Terre Roveresche e l'apprezzano ricordiamo che il prossimo anno ci saranno le elezioni da noi a Terre Roveresche il prossimo anno a Colli al Metauro quest'anno però io rimango di qua quindi non mi muovo di sicuro e si ricandiderà vediamo insieme a tutti i nostri collaboratori sì perché abbiamo iniziato un percorso importante abbiamo iniziato tanti progetti quindi l'idea è di portarli avanti certo io vorrei intanto ringraziare coloro che sono dietro il regia quindi Riccardo Sora e Cristiana Guerra sindaco grazie anche lei per essere stato di nuovo nostro ospite grazie a voi per questa possibilità perché comunque sia da visione al territorio e da voce comunque sia ai cittadini certo grazie davvero e vi ricordo che la prossima sarà probabilmente l'ultima puntata chiuderemo questa stagione con il sindaco di Fano Massimo Seri e di nuovo la ringrazio per essere stato con noi sindaco grazie a voi a presto grazie anche a tutti i telespettatori buona sera e a domani grazie a tutti i telespettatori